Ciao Giovanna, Inter in vantaggio come dicevi al diciassettesimo minuto, siamo al trentaduesimo, quindi 1-0, bellissimo il gol di Turam, più che per la finalizzazione per l'azione con Darmian che ha sventagliato da destra a sinistra per Bastoni, l'ha messa in mezzo di Marco Di Tacco, ha smarcato Turam che è arrivato solo soletto e l'ha messa in porta un Inter che nella prima mezz'ora è partita fortissimo come col Monza, poteva andare anche al doppio vantaggio, però per ora la partita è sempre aperta perché è 1-0. Assolutamente, è partita apertissima, ma io sentivo quasi dei cori in lingua araba, non lo so, non lo so se il nostro Simone Barbato ci ha preparato qualcosa a tema, benvenuto Barbato! Ariad, l'Inter vincerà Attenzione Lautaro, Provedel che si salva in angolo, stava arrivando Marcus Turam e allora Provedel in un secondo tempo la deviata in calcio d'angolo, Lautaro si è liberato al tiro, nessuno ha chiuso su di lui, il tiro un po' centrale ma forte, Provedel si salva in calcio d'angolo, ancora Inter in attacco. Allora, Ariad, l'Inter vincerà questo il coro del nostro Simone Barbato, ma devo continuare? L'Inter vincerà Molto, molto, come dire, aulica l'atmosfera questa sera, ma sono sicura che da questa parte ci sarà, vi daranno filo da torcere, Gianni Solaroli per esempio, benvenuto! Ciao Giovanna, quello mi sembrava più un canto gregoriano che un canto arabo, era un mistero, ben trovati gli amici a casa, voglio dire, l'Inter sta sbagliando tanti gol, mi è venuta in mente quella regola, com'era quella regola lì? Gol mangiato, gol sbagliato, non mi ricordo, pensiamoci, dopo magari lo dici, comunque non fa rima ma è gol mangiato, gol sbagliato, gol subito, a me sembrava così, gol sbagliati, gol sbagliati, tanti gol sbagliati! E allora salutiamo il compare di speranza del nostro Gianni Solaroli, ci sta insomma il tifoso, anche di merende se vuoi possiamo dire, assolutamente! Attenzione ancora l'Inter, pericolosissima palla che esce di un niente alla sinistra di Provedello, una palla messa in mezzo da Cialanolu, tagliata attraversa tutta l'aria, c'erano due giocatori dell'Inter sul secondo palo che non riescono a mettere la zampata né Turam né Pavard, anzi Lautaro sul secondo palo, l'ha toccata Pavard di testa, Turam non ci arriva e nemmeno Lautaro che si mette le mani nei capelli, inzaghi si dispera, dice come è possibile solo 1-0? Come è possibile, come è possibile, anche Soloroli si dispera! E c'è Morina, benvenuto! Anche Morina è preoccupante! Ma io ti saluto velocissimamente perché i vice campioni d'Europa stanno creando talmente tante occasioni da gol, sempre a testa alta! Attenzione perché qui stai presentando uno che forse è il futuro campione d'Italia, attenzione! Ma io per adesso faccio la guardia per adesso! La classifica dovrebbe dire questo oggi! È la guardia che insegue il ladro, io non lo so se in questo studio si sono sentiti toccati da questa metafora! Per adesso io e Borrelli giochiamo e voi siete spettatori, per adesso! Ma non c'è problema, domenica tornano ladri perché vanno davanti, non c'è problema! Ben ritrovati, no scusami, vengo subito da te Borrelli e da te Barbato, ma c'è un Morina che ha fotografato così il momento in campo! Però ha preso una bocca! Sì, ho detto che con tutte queste occasioni il risultato giusto in questo momento sarebbe 6-0 per i vice campioni d'Europa! Io capisco che Ezio non è abituato, a parte quella partita in Coppa Italia con la Salernitana! No, ma per carità! Ma a me basta vincere 1-0! Ma sai cosa è? Vincere 6 volte 1-0! Non 6-0! Adesso ho appena inquadrato io! Vale, vale anche quello! Perché Inzaghi e Piacentino, quando un Piacentino sente d'or della Coppa, diciamo, non può resistere! Sai che lui è il primatista con Lippi e Capello a 4 di Supercoppe, quindi vincendo sarebbe il primo in assoluto! Sì, ma la Coppa Piacentina è un'altra coppa! E la terza all'Inter! E la terza consecutiva come solo Capello al Milan è riuscito a fare inizi anni 90! Oh, ragazzi, però 1-0 lo sappiamo che è un risultato che ci lascia, voglio dire, a commentare la partita con tutto che può succedere! Tutto e di più, nonostante la Lazio è chiusa! Guffate aperte! Siamo ancora guffate aperte! Era già finita prima! Ma no! Ma anche quella di lunedì! Ma non è vero! Non c'è storia! Ma perché? Ma ti rendi conto che stanno giocando? L'unica cosa che spero, se mi permetti, è che non si affatichino troppo perché c'è il campionato quando tornano e poi arriva la Coppa, dopo devono giocare la Champions... No, Giovanna, seriamente, stanno giocando contro squadre che hanno 20 punti in meno dopo 20 partite! Cioè, secondo te ci può essere storia? Certo che c'è storia! No, beh, la Coppa comunque è una storia sempre a sé! In Coppa i valori alla volte sì! Devo dire che io adesso... E poi la Lazio ha ritrovato comunque continuità risultato e la qualità c'è lato! Fuori dalle battute, voglio dire, se l'Inter passa e va a fare la finale con Napoli, meno male, dico, perché almeno la vince una delle squadre che ha diritto a vincere la Supercoppa, perché ha vinto una al campionato e è data la Coppa Italia! Non è mica possibile pensare che hai vinto l'ultima Supercoppa da perdente di finale di Coppa Italia! E' una cosa fatta bene? E' giusto che lo vinca per... E' regolamento! Attenzione però, scusa Gianni, perché c'è ancora l'Inter con Turam! Attenzione Turam! Turam da solo davanti a provare e non tira! Perché ora se la porta sul destro... Ancora Turam! Turam! Il tiro respinto! Ancora Turam! Il tiro respinto! Ancora sulla linea dalla difesa della Lazio! Ma non ci posso credere! Incredibile! Ha cincischiato come se fosse la partitella del giovedì di Marco! Ancora la respinta su Turam che non riesce stavolta a stopparla, però questo è un gol mangiato! Calcio di rigore per l'Inter, c'ha l'anolo, gol! Del Sultano! Inter 2, Lazio 0, calcio di rigore per fallo di Pedro sull'Autaro che prima lo prende di destro, poi lo sgambetta di sinistro. Marchetti dice niente, lo richiama di bello al bar. Calcio di rigore per l'Inter, lo batte l'infallibile. Cialanolu che ancora una volta, 14 su 14 dal dischetto, Inter 2, Lazio 0, ipoteca sulla finale di Supercoppa Italiana per l'Inter. Scusate, ma io sono rimasta ancora a questo Cialanolu dove la G non si pronuncia! Non si pronuncia! L'ho scoperto adesso dopo vent'anni che milita in Serie A, non si pronuncia! No, no, no! Ma te l'ha detto lui! Lui, lui, lui! In Turchia si dice Cialanolu, senza la G! Cialanolu, vabbè, vabbè, gli togliamo questa cosa! Sembra più sardo che... Cialanolu! Cialanolu! Cialanolu è di Orisei! Cialanolu è di Alghiero! È di Alghiero! Pazzesca da parte del giocatore che... Di Pedro, Pedro! Ma un'ingenuità folle! No, non si può fare un rigore così! Cialanolu è di Orisei! È una roba che doveva vedere... Erano 47 minuti che ormai ero preoccupato che non intervenisse il bar pro I. Certo, poi ti sottolineo che al VAR c'è di bello, che è quello della famosa partita dei due rigori e del rigore non dato, che non ha chiamato... Di chi? Di Juve Bologna! È il famoso arbitro Juve Bologna! L'importante è che... Si tolò il Corriere dello Sport e niente di bello quel giorno! Vabbè, l'abbiamo visto appena Milano cos'è combinato di bello! Ma c'è sempre una bella differenza che quel rigore, come abbiamo detto tutti, c'era... Milano l'Atalanta di Coppa Italia! ...ma andava ancora trasformato! Certo, certo! Milano l'Atalanta di Coppa Italia era di bello! Dove non essere annullati! No, dai, però abbiamo detto tutti che nel primo tempo 2-0 era il risultato che fotografava di più! Attenzione però ancora l'Inter! Scusa Giovanna Conturam che la lascia a Barella! Carica il destro! No! Assist per Lautaro! Traversa interna la palla che torna in campo! Questo è un gol mangiato, secondo me! Lautaro la voleva mettere sotto l'incrocio! Ma qua bisogna segnare ancora un gol mangiato dopo la traversa di Barella, la traversa di Lautaro! Quella era esterna! Questa è interna ma la palla non è entrata! Allora scusate perché... Cioè sia Luiz Alberto che... Ah è entrato Luiz Alberto! Che immobile! Si vede durante la pubblicità! Allora è entrato sia Luiz Alberto che immobile! Sono ben entrati! C'è il pendolino di Barbato che a questo punto... Attenzione a Felipe Anderson per immobile! Palla all'indietro ancora Lazio! Luiz Alberto al posto di immobile! Ma non lo so! No c'è anche immobile! Sono stati tutti e due! Immobile gioca dall'inizio ragazzi! Eh beh immobile c'è! Tutte e due non è uscito immobile! No 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 dico immobile c'è! Si trovate volano parole grosse e tra poco vi metto al corrente di ciò! Raccontaci cosa è successo! Se Turama ha sbagliato... O meglio ha perso l'attimo! Ha perso l'attimo! Per l'ennesima volta! Ha perso l'attimo! Anche se Gianni poi l'ha detta grossa e gliela faccio dire a lui dopo! No no non l'ho detta grossa lo dico seriamente! C'è stato uno scivolone di un giocatore della Lazio! Allora Lautaro dice grazie e si invola sulla tre quarti! Erano tre contro due! Alza la testa! Lautaro è marcato! La dà Turam che poteva tirare di destro! Se la vuole portare sul sinistro come ha fatto a Monza! Ma poi non tira! Calcio d'angolo per l'Inter! Di Marco palla al centro! Respinge Cataldi di testa! 71esimo! Sempre 2-0 per l'Inter! Che devo dire stasera ha spregato tanto! Quindi vediamo però il 3-0 nell'aria! C'è ancora Lautaro! Palla al centro per Pavar! Che scivolata! Non ci arriva ancora Di Marco! Fuori di molto! E allora glielo facciamo ridire! E facciamoglielo ridire! Questa eresia per Borrelli! No no no! Cos'è che hai detto? Per Borrelli è un'eresia! Ma io lo credo fermamente! E credo che forse anche qualche amico in studio sia d'accordo! Di là fuori dai discorsi di Campanile! Secondo me Pulisi che meglio di Turam! E sa più giocare a calcio! E' più un calciatore completo! E' più tecnico! E' meno forte fisicamente! Certo! Perché lui la porta di Turam è veramente importante! Ma tecnicamente secondo me è un giocatore più completo Pulisi! Morina! Non sono d'accordo! Non sei d'accordo? No sono d'accordo! Ah scusa! Perché ho avuto quell'inizio appena arrivato in Italia! Abbiamo detto questo è un attaccante di grande spessore! A Turam? A Turam! Poi l'ho visto! Giocare senza avere di fianco l'Ottaro ed è sparito! Ha avuto un calo fisico in quelle due partite Genoa e Chi era il Verona! Beh stasera ha fatto quel gol che ha spinto ma ha sbagliato due occasioni pazzesche! Sì no ma anche tre se vogliamo! Beh però anche l'Ottaro sbaglia tanto! Però ha fatto dieci gol a metà stagione e il primo anno in Italia ragazzi! In campionato sette vero? Otto con sette assist! Tre rigori procurati! Sette assist e otto gol in campionato! In una squadra che gira! Ma non è solo il gol! È uno che tecnicamente ha cambiato l'Inter perché l'anno scorso l'Inter aveva Dzeko, Lukaku non c'era mai! Dzeko è uno che ti fa... Intanto c'è una roba nel breve, secondo me non è bravo nel breve! È buono quando è lanciato, quando ha gli spazi, quando... Pugnione ora la Lazio in avanti, respinge De Vrij, ora la Lazio ci prova con l'orgoglio a portarsi in avanti, respinge De Vrij che subisce fallo, infatti interviene Marchetti punizione per l'Inter! Ragazzi Duramma ha uno scatto, ha una velocità, potenza, fisico e anche alto perché è più di uno in 90, gli manca veramente questa cattiveria in area di rigore! Ho detto fisicamente sì, ho detto tecnicamente è più giocatore pulito! Attenzione perché stanno entrando Arnautovic e Sanchez, escono Lautaro e Turamma al 74esimo minuto! Io ho sempre sostenuto che una delle pecche dell'Inter sia proprio il gap pazzesco che c'è tra i due titolari, i due sostituti che non dovrebbe esserci in una squadra, insomma medio-alta, potrebbe cambiare la partita! Dico solo cos'è, cos'è il... Il coro di Sanchez, lo vogliamo fare? Quale? Quale? Qual è il coro di Sanchez? E' il nigno maraviglia che via, che via, che via, che il nigno maraviglia! E' il nigno maraviglia che via, che via, che il nigno maraviglia! Io vorrei che la ballasse Borrelli! Ti puoi togliere dalla testa quella specie di tappeto persino? Dai Borrelli, il leone in gabbia due anni fa ci ha fatto gioire molto, Ezio se lo ricorda bene, al 121esimo! Però Borrelli, se vincesse l'Inter potresti ballare, è il nigno maraviglia! Addirittura, se vinciamo lo scudetto... Parli del gol di Sanchez, sì sì sì! Perché quello è un gol di Sanchez, eh! Non te lo riconosce, non riconosce la partita di Sanchez! Un assist così dopo 120 minuti! Il leone, il leone! Te lo sogni, eh! Beh ma guarda che il tuo Vidal ha detto che... Se ne deve andare! Se ne deve andare Sanchez perché è sotto... Perché non lo fanno giocare mai! Sottostimato, perché poi continua a paragonarlo a Mkhitaryan, non ho capito cosa c'entra il raffronto, però dice che anche Lontaro sia un giocatore normale! Se Sanchez, tecnicamente, signore e signori, vi informo che Sanchez è un giocatore superlativo dal punto di vista tecnico! Otto anni fa, eh! Tecnico, eh! Otto anni fa! Io ho visto fare ancora delle progressioni ultimamente da Sanchez incredibili! Ma se due anni fa, che ti è pagato per che andasse via? Allora, no, perché lui voleva giocare di più e prendeva 7 milioni! Allora, posso dire una cosa, seriamente? Guarda gli accendenti sul mercato, eh! Parlando di calcio... Non è uscito dal mercato! Allora, Sanchez... Fatto 18 gol l'anno scorso al Marsiglia, 18! Sanchez è uno di quei giocatori, di quei pochi giocatori che ti fanno innamorare del calcio! Anni fa! Personalmente... Scusate, ma allora però c'è un contraddittorio! No, 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 no! Perché io sento sempre in questo studio, quando si parla della rosa dell'Inter, dire Eh, però davanti ci manca... Abbiamo solo Turam e Lautaro! Sì! Ecco, ma adesso mi racconti che Sanchez è un giocatore... E io non l'ho l'Inter, altrimenti... Perché la Juve a Ken... L'ho sentito dire tutte le sere qua... Attenzione, Sanchez frattesi che allarga per Di Marco, entriamo in area di rigore da sinistra, il cross che è murato in calcio d'angolo, fallo laterale, vedremo se ci fanno vedere una ripresa più larga, si dispera Lazzari, intanto vi comunico che gli spettatori sono circa 20 mila, quindi capienza di 25 e 20 mila. C'è anche Marco Materazzi in tribuna, ovviamente, 5 calci d'angoli... Comunque i giocatori lì, come ricordo Zola, Sanchez... Piano, 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 piano di Sir Zola, piano... Ma Sanchez e Rai ha fatto la storia, Sanchez... Fanno innamorare del calcio, perché è quella mezza punta... Simone, vediamo il gol, vediamo il gol... Calcio d'angolo per l'Inter, palla che spiove in aria, Provedel di pugno, allontana in fallo laterale Inter, che però rimane in fase d'attacco quando mancano 14 minuti al termine e il punteggio è sempre di 2 a 0. Abbiamo detto gli ingressi di Arnautovic e Sanchez al posto delle punte, anche De Vrai per bastoni, frattesi per barella. Nella Lazio sono entrati Cataldi e Luis Alberto dopo il 2 a 0, Pellegrini e Isaksen a metà, secondo tempo. Mi devi dire da qui alla fine della trasmissione quanto ti risulta quella brutta storia che vede il protagonista Arnautovic e un altro giocatore straordinario? Eh sì... No, non se ne parla, non se ne parla... Ma come non se ne parla, come non se ne parla... Brutto, brutto... L'altro non so chi sia, Marnautovic e un altro giocatore... Tensione, palla che spiove in aria, ancora il tiro dalla distanza, colpito un giocatore della Lazio che rimane a terra, colpito affondato, calcio d'angolo per l'Inter, ma ha preso una pallonata, proprio Lazzari, nelle parti basse. Allora, il tiro di Chalano, il forte, l'ha preso proprio lì, dietro di Lazzari c'era Sanchez, però era più un tiro in porta che un passaggio e quindi ora entrano i sanitari. E' un po' più giù, voleva volare l'uselin di Solaroli, è un po' più giù, voleva volare l'uselin di Solaroli... No, adesso, non esageriamo... Allora, no, ha capito Borrelli, perché io quando ho letto, adesso, poi c'è un procedimento, è stata sporta denuncia, non vuol dire che se uno è stato accusato di un qualcosa, questo qualcosa sia stato fatto, però certo, è brutto l'episodio. Sì, sì, per come è stato scritto, no, no, per come è stato scritto è brutto, brutto, e poi lo descriviamo bene, ma... Cos'è? Insomma, una roba proprio brutta brutta, brutta brutta, brutta, ma giusto così per non lasciare mai Borrelli tranquillo, eh? Eh, ma sai, loro hanno paura della Juve, ti dico la verità. No, io ho l'ansia, da quando sono alto... E hanno ragione. E anche barbato ha paura. L'ho già detto, io ho tante voce, io proprio ho quella... come l'ha detto prima giustamente, giustamente... Morina. Morina. Mario Morina. Mario Morina, ha detto quello che ho io, non paura. Dimmi, dimmi Raffaele. Come hai detto quella parola? No. Terrore? L'ansi, l'angor... No, una parola... E non lo so, cos'è che hai usato? Ossessione. 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 Io ho quell'ossessione lì, lo ammetto, lo ammetto, lo ammetto. Vabbè, però, già che si autodenuncia, già ammettere una propria debolezza è un passo avanti verso la guarigione. Tu puoi parlare di qualsiasi cosa che riguardi l'Inter di questa partita, ma appena gli dici qualcosa... E la Juve quella volta... Ma vivete tranquilli, non pensate sempre alla Juve. Ma no, ma chi se ne frega? Adesso siamo pure... Non pensate sempre alla Juve. Vorrei... Una munizione per Mkhitaryan. Mi sa che dovranno pensarci in futuro. Vado a vedere un po' i gialli. Vorrei li è teso, dai, non ha altri pensieri da di fuori di reale. Senti, le munizioni che prendono qua non valgono in campionato. Sì che valgono in campionato, certo. Ah, queste sì, invece il contrario no. Sì, sì, e per quello che Barella, già diffidato, si pensava facesse giocare frattesi proprio per non rischiarlo in vista della gara. Che la prossima con chi è? Fiorentina? Fiorentina a Firenze il 28 domenica domenica sera. In promenade, si dice in Francia. La Fiorentina che tra l'altro ieri ha avuto ammonito Biraghi, che salterà Fiorentina-Inter. Fiorentina che però avrà nove giorni per prepararsi alla partita. L'Inter già si sa che non avrà Cialanoglu, che è stato ammonito col Monza. Quindi attenzione a Barella che adesso però è uscito. Chissà se fa un gol a Lazio e riapre la partita. Attenzione la Lazio che ci prova con una palla messa in mezzo all'aria. Inter che sparacchia via lontano con Cialanoglu. Allora questo è il terzo giallo per Mkhitaryan. Quindi no, non entra in diffida e meno male. Però fa ancora in tempo, perché a ridosso della Juventus, che adesso c'entra Ezio, perché Fiorentina-Inter è prima di Inter-Juventus e quindi Cialanoglu ci sarà. A meno che non prende Rossi qui in queste partite. Barella è ancora a rischio e Mkhitaryan si avvicina alla diffida contro i gialli. Sì, perché poi c'è questo famoso asterisco che può dare un vantaggio psicologico alla Juventus. La Juve può andare a più quattro sabato sera, perché se batte il Lecce domenica e sabato l'Empoli andrebbe a più quattro. E quindi l'Inter a Firenze senza aver mai giocato si ritroverebbe a meno quattro. E quindi sarebbe una partita prima dello scontro diretto, forse dal punto di vista psicologico, una situazione diversa. Può influire. Ultimo cambio per l'Inter. Entra anche Aslani, probabilmente uscirà Cialanoglu, come dice Giovanna. È già tutto scritto. È scritto, ma io... È scritto, è scritto, è scritto. Beh, ma insomma, ogni allenatore può essere il suo modus operandi. Un altro grande classico, vediamo se così sarà, dopo aver segnato... Perché ha poco da cambiare, insomma. Bel gol, esce proprio Cialanoglu, esatto, esatto, esatto. Ormai è già... Standing ovation della Luba. Cialanoglu, vero? Cialanoglu. 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 Signore e signori, direttamente dall'Albania entra Aslani, il violino dei Balcani. Oliver già avrebbe saltato la Fiorentina per la quinta ammunizione, quindi questa è la sesta e si inizia a contare per il campionato. Poi la prossima squalifica è alla decima. Sbaglia ancora la Lazio, tanti errori tecnici. Allora riparte l'Inter in contropiede. Attenzione, c'è solo dall'altra parte Frattesi. Lo vede Michi, daria un attenzione a Frattesi che carica il destro e il tiro. Goal! E sono tre! Davide Frattesi! Terzo gol per Frattesi stagione. Terzo gol per l'Inter oggi. 3-0 sulla Lazio. Lui di solito segna il novantatresimo. Stavolta ha anticipato un po' i tempi. Assista ancora del professore. Anzi, quarto gol con l'Inter, ricorda la grafica. Bravo, bravo Frattesi. Bravo Frattesi che esulta anche con grinta. Ma non è finita fino a quando... Vabbè, a questo punto possiamo già finire. La prima... Beh, sinceramente... Finita col calcio di rigore. Sinceramente non mi aspettavo questo divario anche perché la Lazio aveva ritrovato continuità di prestazione, di rendimento. La partita finisce quando all'inizio del secondo tempo fanno il secondo gol e con rigore. Cosa vogliamo dire al professore a 35 anni che ancora scatta al novantesimo, prolungamento di altri due anni, parlo ovviamente del treno armeno che è veramente ovunque ogni volta. Dalla Lazio sbaglia e lì mi approfittura. Non è che a 35 anni e uno... Posso dire una cosa? No, no, però anche io l'ho lasciato andare, voglio dire. Posso dire una cosa? Infinito, infinito. Niki Tarion, è arrivato l'armeno che va come un treno e con Niki Tarion, è arrivato l'armeno che va come un treno e con Niki Tarion, è arrivato l'armeno che va come un treno e con Niki Tarion, Niki Tarion. Senti nell'aria c'è già Niki Tarion. Ma con la M, 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 M. Senti nell'aria c'è già Niki Tarion. M, 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 M. C'è da dire che... Ragazzi abbiamo fatto con Simone tre partite insieme, sono dieci gol, due al Verona, cinque al Monce e tre alla Lava. È una coppia fortunata, siete una coppia fortunata. Attenzione perché intanto c'è un gol annullato. Ah, ad Immobile. Ad Immobile, con un tocco di mano, e mentre qua esultiamo ci stiamo dando troppo all'esultanza. Adesso lo rivediamo con calma perché lo stanno controllando, vediamo un po'. Credo sì, sì, annullato, annullato, però lo voglio rivedere, vediamo un po' questo tocco di mano. Sì, sì, stop di mano netto di Immobile che si è aiutato col braccio e poi ha segnato. Anche un gol bello, bello, ma l'azione era ferma, subito tutti hanno alzato la mano. Ah, non ho capito male. No, Immobile l'ha stoppata col braccio destro. Chissà cosa avevi visto. No, 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 no. Cantaci un pezzo, va. Allora, allora, ragazzi, io ribadisco, non è che l'Inter ha giocato contro la squadra, è vero che in classifica ci sono tanti, tanti, tanti. È un momento di forma da Monza in poi. Questa è la squadra arrivata a seconda in campionato. Eh, appunto, quindi è sempre quella. Prima e seconda dello scorso campionato. È una considerazione? No, volevo dargli ragione quando ha detto, no, non volevo, non so se ha detto una cosa a favore o contro il fatto che possono giocare quattro squadre in Supercoppa, diciamo, da quest'anno. Io sono a favorevole. Cioè, per me è una cosa molto interessante. Allora, forse no. Questa sera vinceva la Lazio e vinceva la finale della Lazio e quindi vince la Supercoppa una squadra che non ha vinto né il campionato né la Coppa Italia? Cosa vuol dire? No, però ecco, per me è una cosa positiva perché questo dà un'ambizione, diciamo, dà un respiro di speranza. Non cercare un significato filosofico, c'è solo un discorso di grana, di soldi che portano a casa, se no non esiste. Io quando parlo di calcio non parlo mai di soldi, io parlo, diciamo, a sentimento. No, no, ma tu no, lo so, lo so. E secondo me è dare la possibilità, dare appunto quello che... Tra qualche mese devi cominciare a preoccuparti parlando di soldi. Qualche mese, due. No, vabbè, ma fatemi fare il ragionamento. No, dare appunto, come l'ho definito, un respiro di speranza ai tifosi di squadre di media classifica come può essere il Bologna, la Fiorentina, è importante perché da quest'anno in poi anche questi tifosi possono sperare di ambire, di, ma chi lo sa, di poter vincere la Supercoppa Italia. Guarda, posso dire che questa cosa è come allungare l'acqua col vino? O viceversa? Anche perché, da come ha parlato anche Augusto Ciccione, non era sentito, non era sentito neanche dalla squadra, dall'allenatore. Stadio vuoto, ragazzi, c'era lo stadio vuoto. No, 20.000, 20.000, abbiamo detto prima. Questa sera c'erano degli spazi... 20 su 25. Sì, stasera. Ieri sera era il 9.700. Sì, ma bisogna vedere quanto ascolto televisivo ha fatto la partita di ieri. Sono meno favorevole, no, sono meno... Questa manifestazione fatta a Roma portava 70.000 persone. Ma questa porta 23 milioni, oh. a quello che sono... Eh, ma certo, economica, ho detto. Ha solo una valenza economica, non c'è un filosofo che è possibile. Sono meno favorevole alle quattro foglie entrare in mezzo al discorso diritti umani, eh. Perché andare a giocare in quel paese dove vengono calpestati. Sì, ma ormai questa roba dobbiamo divigerirla. Ci hanno fatto un mondiale, figura. Allora, qua stiamo parlando di una nuova formula che per Barbato è romantica perché è inclusiva, perché dà la possibilità anche alle cenerentole, che poi, insomma, tanto cenerentole non sono due signore squadre, di comunque affacciarsi, insomma, pur non avendo vinto le competizioni... Senza merito, ragazzi, non hanno i meriti per essere lì. Allora, Rossa non mi dice, per due motivi non è giusto. Prima perché sono un discorso economico, primo e secondo perché non è giusto, non hanno i meriti per fare quello che ha fatto. Posso dire ancora una cosa, poi non parlo più rispetto a questo tema. A questa questione. Sono meno favorevole alle quattro squadre in Coppa dei Campioni, perché sinceramente quattro squadre in Coppa dei Campioni è un po' eccessivo. Che probabilmente dal prossimo anno saranno cinque italiani. Quello è un po' eccessivo, no, posso finire il discorso? Quello è un po' eccessivo, perché comunque portare cinque squadre in Coppa dei Campioni, proprio questa è una cosa che mi sa di cosa di soldi, proprio. Invece quattro squadre in Supercoppa è una cosa che romanticamente mi piace. Ma cosa cambia? C'è una differenza fondamentale che qui si chiama Supercoppa, vale a dire la Coppa delle Coppe degli Italiani. In Italia sono state attribuite due Coppe, la Coppa della Campionato e la Coppa Italia. C'è una Supercoppa che premia le due vincitrici di questa Coppa. C'è un terzo e un quarto incomodo che hanno partecipato. Ma se sono sentiti i terzi... Come hanno fatto in Spagna, l'hanno fatto già in Spagna da qualche anno. Ma non è che se l'hanno fatto in Spagna sia una buona idea. No, ma se ti danno un sacco di soldi... No ragazzi, io ho sentito dire anche in maniera impropria, campionati falsati, a volte giusti... Questo è un altro discorso. No, 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 aspetta, allora vi pongo anche questa domanda. Visto che sono state impegnate ben quattro squadre, sia per loro che per le squadre che devono giocarci contro. Non è un campionato solo per il business... Se vuoi Giovanna ricordi i recuperi, le quattro partite saranno... E le quattro partite da recuperare saranno uno il 14, uno il 22 febbraio e le ultime due, Inter Atalanta e Sassuolo Napoli il 28 di febbraio. Ma tra le altre cose, guarda che è una roba che si ritorce, può ritorcersi contro l'Inter questa. Ti dico perché. Può arrivare alla partita, chiaro me, che avrà un grande peso, che è Inter-Juventus, dove la Juventus è davanti all'Inter. Perché ha dovuto fare questa sosta. E quindi voglio dire, capisci bene che è una condizione diversa. Perché la Juventus può venire a Milano e gli può andare bene anche il pareggio. Assolutamente. Ma su questo rapporto qua, forse anche su Trentina, Napoli, Lazio... Quando la classifica la vedi in un altro modo, è comunque condizionante. Però dico, allora devono fare anche a questo livello, facciamo anche la finale della Supercoppa Europea a quattro squadre. Ah, facciamone tutte le finale. Perché la finale che ha vinto l'Europa League, la squadra che ha vinto la Champions League... Ma scusa, senza andare lontano, Gianni. Il Mondiale per Club nel 2025 sarà a 32 squadre, 12 europee. Quando ci sono i soldi, si allarga. Ma certo, ma vogliamo dire che si snatura, secondo me, l'agonismo vero di quella competizione. Perché una partita ti dà un diritto televisivo. 16 partite ti danno un diritto televisivo diverso. Ma allora anche la Coppa dei Campioni dovrebbe essere tra le vincenti del campionato degli Stati. Come sempre è stato. Anche la Coppa dei Campioni allora dovrebbe essere solo una squadra. Però lì è una competizione che parte da zero. Cioè tutti partono da zero. Dalla prima alla quarta partono da zero per affrontare e arrivare a vincere il trofeo. Per cui tu, se sei arrivato primo, si presume che sia più forte della quarta e magari hai più possibilità di andare avanti in Europa. Però è lì una competizione a zero. Ma qui parti da un titolo consolidato. Che è il titolo che tu hai vinto. Che sia la Coppa Italia o il campionato... Ma è tutto frutto solo del danaro. Questo è il titolo che ha risposto in Zaghi su questo tema. Ecco, ecco, a proposito. E ha detto noi ci adeguiamo e ci prepariamo per giocare le due partite adesso in tre giorni. Ha detto mi sono davvero divertito a vedere i ragazzi e quindi gli faccio i complimenti. Perché in effetti è stato un interesse. E soprattutto a vedere il bonifico che arriva dalla... Esatto. L'Inter adesso prenderà... Se perde cinque, se vince otto. Perché le finaliste sono queste le cifre. E' un'aspirina per quel signore che sta in Cina. Perché ragazzi, qualche problemuccio economico... Non c'entra niente. Questi soldi vanno all'Inter. Non è che l'ha deciso. Sì, a lui è all'Inter. No, no, non ce ne sono in tasca di fatti. Il signore a cui si fa il riferimento è Zaghi. No, non c'entra con il patrimonio personale. Non c'entra niente. Gli 8 milioni non danno nessuna aspirina a Zaghi. Vai a mettere 8 milioni nel bilancio. Ancora costi debiti. Pure tu c'hai i debiti. Tutti i club hanno, quasi tutti. Vuol dire che l'Inter è nella situazione economica delle altre società? No, domanda. Per esempio, sul debito finanziario, l'Inter 308, la Juve 339, se vogliamo andare nello specifico. Ma mi sembra che volete sviare una serata in cui l'Inter ha dominato la partita. Non ha bisogno di andare a chiedere dei soldi alle banche. Mi sembra che volete sviare. Tu non ti preoccupare dei soldi che chiede Zaghi. Perché noi dovrà restituire. C'è tu che ti devi preoccupare. No, 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 per niente. Allora, no, per niente. Sono dieci anni che mi parli che Zaghi si deve preoccupare. Agnelli se n'è andato ormai dalla Juventus. E cosa c'entra? Tutto il CdA se n'è andato. Cosa c'entra? Tu mi parlavi di Zaghi. Come cosa c'entra? Se l'hai in mano la famiglia Agnelli, lì è la Juventus. Zaghi a Milan ha visto cambiare quattro proprietà. Scusami, dire che oggi la Juventus non ha in mano gli Agnelli, mi dici a chi è in mano? Andrea Agnelli. No, ma non c'entra Andrea, la famiglia, ragazzi. Andrea Agnelli. E Gioanelka come prima. Non l'hanno più voluto nel CdA, a fianco a loro non l'hanno più voluto. La Juventus era di Gioanelka, non di Andrea Agnelli. Andrea Agnelli era il presidente, ha vinto nove scudetti consecutivi. Ho capito, ma è ancora di Gioanelka, non è cambiata la proprietà della Juventus. Però posso dire una cosa, cioè, quel detto, no? Guardi, la pagliuzza negli occhi dell'altro, ma non il trave nel tuo occhio. Noi abbiamo un bilancio in attivo, quindi non abbiamo nessun trave. Noi abbiamo dei fiori nel nostro... Si dicono tante cose sull'Inter, ma cose invece catastrofiche, capitate a altre squadre, per esempio io e Borrelli non andiamo a rammentarle. Ma sì, ma stiamo commentando una semifinale. Però sono successe cose catastrofiche ad altre squadre. Ma noi non le diciamo. Simone, facciamo gli app, gli app. Facciamo gli app, ma... Ormai ribattezzati gli app. Ma parleremo anche di queste cose catastrofiche, parleremo del 20 maggio che si avvicina, della sensazione che l'Inter voglia ricapitalizzare in qualche modo... Ma deve, è obbligato a farlo. Sì, in che modo però? Zang, Zang. Zang vuole rifinanziare. Esatto, vuole rifinanziare il debito. Se non rifinanzia c'è un'ottrice. Più che vuole userei... Come pensa Ezio che dice... Più che vuole userei... Più che vuole. Però, certo è che questo presidente, è vero che tu sei in buone mani perché c'è Marotta, però è d'agosto che non si palesa, giusto? Sì, ma si sente quotidiano a me. Anche oggi ha mandato un messaggio alla squadra e... L'ho sentito anche io ieri, per esempio. No, no, no. Ha chiamato Pagampolato del piede almeno. Mi ha detto Pagampolato. Sapendo benissimo quella che è la differenza tra Juventus e la proprietà e la Exor, che è la cassaforte di famiglia e l'Inter, che non accettiate questa cosa e dire... Ma Ezio, ma a gennaio tu non hai rispettato l'indice... Tu, nel senso la Juventus. L'indice di liquidità ha dovuto vendere, come si chiama, Ranocchia, per poter chiudere l'operazione Tiago Giallo. L'indice di liquidità era posto. Ma se la Juventus deve fare un aumento di capitale, non va a chiedere un prestito a nessuna banca. Ma no, ma questa è disinformazione, perché l'Inter ha fatto un finanziamento soci, che ha trasformato in capitale, quindi è come un aumento di capitale. Tra l'altro in questi giorni ne ha parlato anche un famoso economista, che segue anche la Juventus, è tifoso della Juventus, gli hanno fatto pure un'intervista a Tutto Sport, ha detto, amici juventini, mettetevelo nella testa, l'Inter non fallirà mai. Ascolta, non è un fatto di fallimento. No, no, voi parlate di fallimento qua da 5-6 anni. No, noi stiamo dicendo, e lo leggiamo sui giornali economici, non sui giornali colorati, lo leggiamo sui giornali economici, che mi pare che in termini di numeri ne sappiano qualcosa. Il sole è economico. Hanno descritto la situazione economica dell'Inter come molto preoccupante. No, ma non c'è una preoccupazione. È un eufemismo. No, c'è solo una slide in d'ora. Garattisce lui, Gianni. Sì, ragazzi, però se mi dite dal 2017, sempre la stessa canzone, il Milan ha cambiato quattro proprietà, la Juve ha zerato un'idea. Ma chi è che è stato squalificato dalle Coppe? Il Milan nel 2019 ha concordato l'uscita, e la Juve nel 2023-24. Sì, dalle plusvalenze. Eh no, capito. Scusa, alla UEFA, perché non squalificano l'Inter, è preoccupante, non la squalificano. Perché evidentemente rispetta il settlement agreement. A me fa piacere che voi vi diate uno futuro così rosso e ottimistico. Ma guarda che la UEFA ha chiamato Inter, Juve, Milan e Roma. Tutte e quattro hanno firmato un settlement agreement. Tutte e quattro. E l'Inter lo sta rispettando. Si dà il caso che il Milan abbia, ad esempio, un bilancio impositivo. E voi avete chiuso con 80 milioni, mi pare, di buco. Mino 85, sì. 85, sì. Però sta rispettando i parametri. Che non mi sembrano dei bruscolini 85 milioni di buco. Ho capito. Ma chi gliel'ha rimessi? Zang? Adesso gliel'ha rimessi quelli che gli ha prestati. No, li ha messi. Quelli che gli ha prestati. Ma ho capito. Scusa, Zang. Ma se io e te andiamo a chiedere 275 milioni in banca, ce li danno? Non credo. A Zang gliel'hanno dati. Perché l'Inter ha aumentato il valore del lì. Ma cosa c'è l'altro? Tu sei una persona fisica. Eh, ho capito. Stiamo parlando di una società. No, voi preoccupatevi delle vostre di proprietà. No, no. Visto che Cardinale arriva in Italia, caccia direttori generali, direttori sportivi e non li sostituisce. Eh, scusami. Però i conti sono sani. Almeno quella situazione c'è. Ma capito? Ma il calcio si fa per vincere nel campo. I conti sono sani ma poi devi vincere. Ah, quindi i conti non contano niente. No, i conti devi essere in regola. È un calcio un po' allegro quello di cui hai descritto. Deve essere in regola. L'Inter è in regola. Che chi vince con i conti non ha posto è immorale. Aiutatemi, aiutatemi. In questi mesi c'era stato un dirigente è vero che aveva detto Sacchi, Sacchi. Sacchi, Enrico mi sa. Sacchi, no vabbè io così c'è. Sacchi ha detto che l'Inter fa un calcio antico. Chi vince con i buchi di bilancio è un calcio moderno. Ma è del futuro. Ha disintegrato l'avversario senza fargli vedere pina. No, no, no. Un momento. Su questa cosa vorrei dire una cosa importante. È immorale, può essere immorale essere come il Paris Saint-Germain che compra tutti i giocatori più forti che spende tutti quei soldi quello può essere immorale. Ma la situazione dell'Inter immorale non ci sto. Perché l'Inter comunque ha fatto una politica diversa in questi anni. Vendi e compra, vendi e compra, vendi e compra. E ti indebiti, e ti indebiti, e ti indebiti, e ti indebiti, e ti presta soldi. E ti continui a indebitare e chiedi soldi. Fatti prestare soldi. Vendi e compra. Il debito devi stare nella legalità. L'Inter la maggior parte è il debito, il bond, è in scadenza 2027. Il bond. Cosa vi interessa? Ma adesso però devi rendere i soldi e quegli octri. Il 20 maggio c'è il finanziamento di Zhang, non dell'Inter. Risponde Zhang. Ma per che cosa l'ha preso Zhang, secondo te? Ho capito. Per giocarselo al casino o per imparare i conti di l'Inter? Zhang non restituisce. Ha usato soldi non suoi che non restituirà, che non è in grado di restituire. Perché non li restituirà? Anche tre anni fa dicevano che quando ti ricordi c'è stata l'offerta di vissi parte. Che può non restituire. Allora a quel punto diventa l'Inter di octri oppure può in qualche modo rifiutare i debitori. Questi giornali di economia, questi colleghi di economia, non capiscono niente perché devono stare tra... Hanno fatto delle paginate così, buttate e scritte tanto per il mio. Non so tu chi leggi perché se leggi per esempio Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore sono anni che spiega la situazione dell'Inter e non la spiega come dite voi catastrofista. E come la descrive? Buona? Buona. Allora, buona, negativa, volete per forza... Sostenibile. Sostenibile. A parte che... Sostenibile. Sì, sì. Sostenibile. Quest'anno i costi sono stati 465 milioni, i ricavi 425. E' quasi riequilibrato dopo la pandemia il rapporto costi-ricavi. La Juventus ha chiuso a meno i 123, l'Inter ha meno 85, ma tu ti preoccupi del mio meno 85. Pensa al tuo meno 123. Aggiuntoli, sai che gli hanno detto? Puoi comprare se vendi. Ma perché vedi in casa ad altri? L'Inter è nella legalità. Non ti devo spiegare che la Juventus è un ramo della Exor. Eh, della Exor. La Exor, sai che gli ha detto alla Juve, a chi si occupa di Juve, ha detto basta mettere 400 più 300 più 200. Lo diceva anche ai tempi di Agnelli, ma quell'altro, l'Agnelli Avvocato, è da sempre che sento dire questa cosa. Io lo disse anche a Moggi e Giraudo, eh. Tante loro portavano avanti i 20. Ma infatti Moggi e Giraudo chiudevano i bilanci in attivo, mica chiudevano i bilanci a 400 e 300 di aumenti capitali. Però, l'ultima cosa Giovanni, vai vai vai. Io sono contento per Michele, perché fondamentalmente come persona sereno gli voglio bene, sei sereno, sei tranquillo, sono contento. Un partitore di questo per essere sereno. a me, a noi e i giornali economici che scrivono delle barzellette, faceva riferimento Gianni, ti scrivono delle cose che a te fare... Li hai letti anche tu per i titoli, ma dai, li hai legge anche tu i giornali, lo sai. So benissimo qual è la situazione, il bilancio lo rendo ogni anno. Quindi, diciamo, quando vedi dei titoli che sono allarmistici sull'Inter, hai visto l'allarmistico sì, non c'entra niente all'allarmistico. Ce l'hanno fatto per vendere due copie. Allora, è allarmistico anche avere buchi nel bilancio, poi che ci sia una famiglia che li ripiana. Esatto, è obbligatorio per leggi. Però comunque Ezio ti dice, ma io me li creo e me li gestisco sono soldi nostri, non le vado a chiedere a qualcuno con il rischio che mai non si sappia questa Inter a chi va in mano, no? Perché tu dici non fallisce però un giocatore ad oggi non sa a giugno se sarà stipendiato da Zango Se questo non ripina fa la fine degli Elliot con i cinesi, non è più proprietario. Io ti dico solo questa frase, se questo non tira fuori i soldi adesso a maggio fa la fine di Elliot con i cinesi, vedi, tu leggi i giornali solo quando vuoi. Proprio qualche giorno fa è venuto fuori un documento che era stato diciamo l'accordo tra Oktri e Zhang in cui al di là di quello che sarà i soldi da restituire Loro non vogliono l'Inter? No, no, a parte questo. La girano, eh? Deve essere valutato da un perito terzo nel caso in cui Zhang non dovesse pagare i 386 che sono diventati intanto con gli interessi un perito terzo che deve valutare l'Inter in base alla valutazione bisogna togliere i soldi che gli deve dare e Oktri dovrebbe dare a Zhang la rimanenza però al netto di una valutazione della situazione debitoria. E tutto questo è normale? C'è una situazione che è normale ma secondo me alla fine Zhang non andrà a finire Oktri l'Inter perché lui ci tiene tantissimo e vedrai che troverà la soluzione come la sta trovando. non fingi di non capire ma fingi perché fingi guarda se ci teneva tanto questa sera era in tribuna ma Ezio però Michele ma Ezio aspetta io sono informato della materia se ci teneva tanto se ci teneva tanto questa sera era in tribuna il tuo presidente scusami Gianni ma come quando mai come quando mai Gianni scusami ma no ma ci sono delle situazioni per cui non l'hanno fatto essere presente perché fermo in Cina questo signore da tre mesi perché? Per problemi legati a Suning dei ieri assestamenti ma tra l'altro non sono problemi economici tra l'altro nel 2024 se voi continuate a leggere i giornali che dite di leggere sapete anche che Suning sta riacquistando quota dal punto di vista della spendibilità economica sì anche se quello non è che per l'Inter diciamo vuol dire tanto perché la Cina come sapete fa i programmi quinquennali e dal 2020 al 25 il programma è più di rientro che di espansione però l'Inter deve andare avanti con i suoi ricavi ma non solo l'Inter pure il Mina fa così la Iume fa così ma allora secondo me sta lavorando bene nel senso in cui sta cercando di far acquisire il maggior numero di appilla anche economico al marchio Inter in modo che un fondo o un ipotetico investitore perché io non credo un socio di minoranza che può andare l'Inter deve solo vincere quest'anno però è più vendibile è più vendibile allora vai che devo andare in pubblicità poi ritorno mi hai risposto senza farmi fare senza farmi esporre quando ti ho detto fingi di non capire perché fingi che la Juventus io io e Zio Morina Juventus se non ho i soldi nella tasca destra ce li ho nella sinistra i pantaloni sono miei sì e tu fingi di non capire che Zanga ha fatto finanziamenti soci perché aveva un socio di minoranza nell'Inter e quindi anziché fare l'aumento di capitale ha fatto prestiti finanziamenti soci che poi ha trasformato in capitale sociale ogni anno questi finanziamenti soci stanno diventando come un aumento di capitale perché legge dello Stato se tu chiudi a meno 100 non è che te ne puoi fregare devi ripianare l'unica volta che non ha ripianato perché c'è stata la legge per la pandemia a mille proroghe ha rinviato al 2026 e 27 ma chi ha ripianato chi? una società esterna? no no non sempre su Ning poi la controllante dell'Inter a un certo punto nel 2021 si è fatta fare un altro finanziamento da OCTRI che è un fondo esterno e lo paga profumatamente con 12% e certo gli interessi pazzeschi non è che è gratis ma no l'Inter quando diciamo deve fare i conticini ma ragazzi il debito era di 200 il prestito di 275 milioni è diventato di 360 con gli interessi allora ragazzi torniamo su questo argomento anche perché ci sono delle importantissime dichiarazioni di Marotta sì affascinante a parte che usa il termine affascinante affascinante è un sogno è un qualcosa che vorresti che accada ma non è detto che accada quindi prende le distanze da uno scudetto che in molti gli hanno cucito addosso rimarcando la difficoltà di questo campionato inserendo nella lotta a scudetto anche il Milan e facendolo un campionato combattuto cosa che in molti non fanno perché l'Inter quest'anno deve solo fare una cosa vincere e vincere facile lui rimette un po' tutto a posto è vero che su Allegri non affonda il colpo e dice fantasiose a tratti ironiche quindi da questo punto di vista non ho nulla da eccepire secondo me nel parlare di Inzaghi rimarca sempre il discorso che abbia fatto esperienza che sia cresciuto che sia giovane secondo me a questo punto in maniera un po' ingenerosa ricalca uno stile no? è cresciuto con noi ha fatto esperienza un pochino lo rimette sempre al suo posto perché Marotta sappiamo che non è mai stato un grande stimatore di Inzaghi ma come no? eh no lui l'ha chiamato lui l'ha confermato l'anno scorso lo ha abbastanza alla fine del primo anno gli hanno aumentato lo stipendio alla fine del secondo ma voleva Allegri prima quando gli hanno chiesto di Inzaghi ha detto vedremo la fine dell'anno quando l'anno scorso? lo scorso e certo il 15 aprile era sesto e allora e che lo confermavi se non andava in cerchio lo stava mandando via no durante la stagione lui non ha mai mandato via nessuno mai non ha mai avuto grossissima non ha mai avuto grossissima considerazione di Inzaghi ma voi state scherzando o siete seri? che dopo il debito mi devo sentire pure sta roba qua ma certo ma ragazzi ma dai te l'abbiamo appena detto ma l'Inter non è mai successo che c'erano dirigenza staff tecnico proprietà e tifosi con un blocco monolitico ma vuoi che ti vado a riprendere le parole di Marotta adesso vi puoi dire tu ma sì l'anno scorso sì no l'anno scorso sì hai ragione Ezio l'anno scorso l'anno scorso se l'Inter fosse arrivata fuori dalle prime quattro non andava avanti lui è iniziato a ottobre a stuzzicarlo però quando ancora i giochi al primo su 8 io vado solo a riprendere le parole di Marotta che mise in discussione la conferma di Inzaghi tanto che Inzaghi disse a fine stagione parlerò a fine stagione parlerò questo lo disse a ottobre poi la stagione finita bene e non ha parlato i risultati non sono un dettaglio però se uno dopo vince due trofei fa una finale di Champions adesso ci vuole ricavere però Marotta lo ha giudicato prima dei risultati Marotta ha messo pressione perché lui che non caccia mai nessuno durante l'anno ha fatto capire guarda che l'avventura sta finendo se il 15 aprile siamo sesti poi l'ultimo mese e mezzo è stato un escalation 7 vittori su 8 in campionato finale di Champions Marotta secondo me è il miglior dirigente che c'è nel nostro campionato indissutibilmente però io credo che in questo momento lui stia facendo intanto dei miracoli perché ricordiamo che è andato a prendere con pochi soldi dei parametri zero che gli hanno dato un successo straordinario e questo è merito solo del signor Marotta obiettivamente bisogna riconoscerlo però certo la situazione di Inzaghi ricordiamo cos'era l'autunno scorso e voglio dire dopo quattro sconfitte era in una situazione dove era più fuori che dentro è inutile che ce la raccontiamo poi il mese e mezzo finale che l'ha portato anche ad arrivare a una finale in Europa è chiaro che è diventato intaccabile non l'ha difeso a spada tratta l'ha messo lì a bagnomaria no gli ha fatto capire che il risultato finale era decisivo però mai messo in discussione nella stagione durante la stagione a differenza per esempio negli anni di Moratti gli allenatori saltavano come ciliegie durante l'anno unico nella sua dialettica però mentre con Marotta Inzaghi sapeva che a fine stagione sarebbe arrivato sicuro allora vai vai Barbato interpretazione per quanto allora le punzecchiature di Torino hanno sempre un po' destabilizzato storicamente l'ambiente nero-azzurro perché è sempre stato un gioco da parte loro quella di andare lì a pungolare a pungolare a moratti non le facevano le punzecchiature finisco il ragionamento finisco il ragionamento finisco il ragionamento però da pochi anni a questa parte fortunatamente per noi è arrivato a Milano un dirigente come Marotta che è stato capace di dalla Juventus di fare una schermatura a queste pungolature e io questo discorso che ha fatto Marotta lo interpreto così ha detto la sacrosanta verità ha detto quello che doveva dire secondo me perché l'Inter e la Juventus si stanno giocando il campionato e secondo me la filosofia di Marotta è molto più consona è molto più giusta rispetto alla filosofia di dire dobbiamo vincere lo scudetto perché secondo me così si estempera anche un po' si crea anche un po' diciamo si toglie un po' di tensione e quindi lui dice adesso la toglie però quando lo dice Allegri non dobbiamo puntare allo scudetto è bleffa è Marotta no no attenzione Morina io ho sempre detto invece che faceva bene Allegri perché secondo me in quel modo toglie la tensione infatti ma più che altro infatti non si attira tutte le antipetie sentiremo parlare di arroganza sì però ma infatti scusa Giovanna però infatti gli ha dato ragione questa politica perché comunque sono lì a due fili ma allora secondo me quello che è successo ieri è solo un lampo in una serata di temporali perché secondo me il bello deve ancora venire io sono convinto che se succede qualcosa che l'Inter non vinca contro la Juventus perché è quello il punto più importante può succedere vediamo può succedere magari giocate anche meglio ma può succedere anche che perderebbe finisco se succede a voi non entrano dalla finestra dei fantasmi entrano delle astronavi vi voglio ricordare al di là delle parole di Giuntoli Allegri che ormai pure quando parlano sembra la recita della scuola elementare perché non ci credono più nemmeno loro sono primi domenica sera sono primi Bremer dopo Cesni McKennie i giocatori parlano di Scudetto Bremer settimana stessa ha detto siamo la Juventus Scudetto dobbiamo vincere tutte le partite e pensare allo Scudetto siamo una squadra forte dobbiamo lottare vogliamo vincere assolutamente pensiamo di arrivare secondi sia io che no all'Inter dal primo dirigente al primo presidente all'ultimo ti dicono il 12 luglio abbiamo l'obiettivo di vincere alla Juventus hanno provato a nascondersi adesso è rimasto solo il dito guarda che la Juventus posso dire che sta facendo un miracolo ma miracolo ma perché è miracolo è miracolo ragazzi non ha una squadra che avete voi si sono salvati con i giovani ha trovato questi giovani che sono stati quelli che l'hanno rilanciato ma ragazzi Cesni è giovane Bremer l'hanno preso a 50 milioni è indispensabile ah no ha fatto due delle parate adesso sono i vari difensori sono questi ragazzi ma scusa Rabiot è giovane campione del mondo è giovane ma non ha mai giocato a questi livelli ma ho capito ma Rabiot ha vinto il mondiale che non ha giocato Danilo e Alessandro sono in nazionale brasiliana la classifica ha fatto fare la nazionale brasiliana ne passano 70 all'anno Chiesa Chiesa è stato pagato 60 Vlaovic 90 ma di che stiamo parlando ma non guarda ma non guarda quanto è stato pagato no no ma lasciano stare quando sono stati pagati però lui dice è una squadra che negli 11 e senza l'impegno e senza l'impegno è una sicura scuola è una sicura scuola Giovanna continua a pensare che sia una giusta equazione tanti soldi sono forti sono forti se no non lo paghino Vlaovic è forte Vlaovic è forte Chiesa è forte Ciesa è forte e Vlaovic lo sta dimostrando Vlaovic è forte Chiesa è forte poi comunque io non mi nascondo dietro il dito come si dice se tu mi chiedi ma questa è una mia personalissima opinione se tu mi chiedi un parere io ti dico da Simone Barbato ti dico io penso che tra le due squadre quella che abbia fatto più salti mortali è la Juventus ma sicuro è quello che stiamo dicendo ma per me per me allora ti faccio una domanda perché no finisco il discorso perché devi rispondermi però con lealtà e con sicurezza cioè senza attaccarti a nessun di roba tu non hai paura di questa Juventus il capio io sì lui ha l'ossessione ha detto prima l'ha dichiarato fin da piccolo ti capisco no però è vero quello che dice Borrell lui invece Michele posso fare la stessa domanda anche a te no no io ho paura no però io ho sempre detto 50 e 50 quando mi dicevano tutti ma tu preferivi avere dietro la Juve o un'altra squadra? no però è vero quello che dice la squadra guarda la rosa guarda la rosa del leader guarda la rosa ma guarda che fa la Champions in più in più guarda che quando arriva la schiamata della Champions togli i tuoi giocatori come Fagioli e Pogba ma Pogba è meglio che l'hai tolto è meglio che si sia tolto che adesso sta ritornando è vero quello che dice chiesa che c'è non c'è perché non sappiamo quello che dice la Juve è in crescita l'Inter è costante già in alto quello che dice Borrelli è stato santo perché lui sta parlando di valori effettivi dei giocatori della Juventus quindi quello che dice lui è assolutamente giusto però secondo me è la squadra che più ha fatto i salti mortali per essere lì perché dal punto di vista del gioco all'inizio era molto involuta era una squadra che sembrava proprio da ricostruire in piena ricostruzione e allegri comunque la portata è diversa dall'Inter sono due squadre che giovano diversamente però io ancora oggi è involuta non so per chiudere la parentesi ma è involuta e involuta alla fine appunto torniamo sempre al solito il discorso che sono due punti ormai siamo nel girone di ritorno quindi tu dici chiedi che la maschera venga gettata tu a questo punto vuoi che anche Morina getti la maschera e dica ma lo sa anche lui che lo si è detto è una possibilità concreta però ti ho appena detto che se vado e l'abbiamo fatto tutti quanti ad analizzare uno per uno i giocatori e i reparti l'Inter è più strutturata della Juventus è più profonda perché fa la Champions che è una manifestazione in più o la Supercoppa adesso sono due partite e basta allora io sento spesso porre questa domanda quanti giocatori della Juventus sarebbero titolare dell'Evo e dopo la pubblicità mi rispondete basta dire Ezio che tanti acquisti della Juve sono stati soffiati all'Inter Bremer Vlaovic Chiesa li voleva tutti l'Inter questi Cambiaso Kostic e la Juve ha pagato di più quindi li vorresti al posto di questi di qualcuno di questi l'Inter giocatori che invece ha preso con avete detto voi la Bravura Cialanoglu a zero Michi Tariana a zero poi si sono rivelati grazie anche al gioco all'impianto di gioco perché l'Inter gioca diversamente la Juventus ha valorizzato 30 milioni non te lo dico ah no 30 milioni fra Tesi e Pavard quest'anno sì allora una cosa è certa che è un giocatore che e mi posso permettere di dire tranquillamente che voi tifosi avete sempre sottovalutato se non il più forte uno dei più forti del centrocampo che si chiama Rabiot ma poi facciamo gli app perché se no si dimenticano dall'altra parte si sono dimenticati che l'Inter ha vinto 3 a zero sono in finale ci siamo aspetta dopo la pubblicità perché sono in ritardo gli up and down di Borrelli e poi mi piace il tuo giochino perché mi permette di confrontare le rose senza quella spataracchiata che poi allora facciamo il gioco chi vorrebbero gli interisti e ruberebbero alla Juve e giocherebbe titolare nella sua Inter quale giocatore e viceversa che loro sono puri e santi chiederesti in prestito ed è in finale di Supercoppa lunedì alle 20 si ritroverà davanti il Napoli di Mazzarri vai per dirla la marotta tra una fucilata e l'altra la lepre la lepre la lepre metà lepre metà volpe ha anche vinto un'altra partita 3 a 0 dopo un 1 a 5 col Bolsa 3 a 0 con la Lazio una Lazio che avevamo detto era in crescita 5 vittorie consecutive oggi male anche Sarri adesso stava dicendo dobbiamo dare i meriti all'Inter però dice ci sono sempre meriti e demeriti e ci sono anche dei demeriti e che demeriti della nostra squadra quindi molto critico sulla prestazione della Lazio allora i down li risparmiamo perché è veramente stata una grande Inter io vorrei andare per capitoli nel senso che do subito un bel 7 e mezzo a Di Marco avevo dato 7 nel primo tempo ma ha fatto veramente una grande prestazione l'assist di Tacco ha giocato i 90 minuti di solito viene sostituito ha fatto veramente una partita da piaciuto nel primo tempo nei primi 20 minuti non aveva seguito bene era distratto si è perso il Tacco quindi grande Di Marco anche Darnian però metto Di Marco poi le altre due voci sono particolari perché tra Barella c'è la Noglu e Mkhitaryan io li voglio mettere tutti e tre allora metto centrocampo centrocampo 8 perché oggi è veramente il reparto che ha visto una differenza abissale con l'avversario cioè il centrocampo palleggiava faceva quello che voleva ripartiva andava dietro andava avanti Barella è stato strepitoso gli è mancato solo il gol Mkhitaryan a tutto campo c'è la Noglu l'ennesimo rigore realizzato quindi centrocampo 8 ma il voto più alto do 9 a Simone Inzaghi perché oggi l'Inter di Simone Inzaghi ha fatto vedere che sta benissimo fisicamente e quando l'Inter sta benissimo fisicamente fa divertire come ha detto l'allenatore dell'Inter che si è divertito a vedere i suoi ragazzi quindi credo che questo riassuma un po' la prestazione non ci sono i down potremo mettere Sommer senza voto perché non mi ricordo una parata di Sommer Palazzi è andato un paio di volte in aria ma immobile il gol irregolare stop di mano quindi no sembra brutto mettere senza voto a Sommer bastano gli up chiarissimo posso fare io due down ecco la cosa strana la cosa strana è che non ci sono negli up Lautaro e Turam Lautaro perché si si è procurato il rigore ma è più demerito di Pedro e Turam si ha fatto il primo gol però se ne è mangiati tre se ne è mangiato volevo fare due down della Lazio però Gianni mi suggerisce che ci sono anche due down interisti che meno bassi cioè meno alti degli altri loro due ah Barbato allora immaginavo ribattezzato lui ha ribattezzato il Barb dopo la Tula Turam Lautaro c'è il Barb la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi che sono tristi perché non sanno più come vincere noi sappiamo perché rossicano come si vince voi sai tu sai talmente che hai giusto giusto la metà dei miei scudetti capitano ma ti faccio due down due down e poi e poi c'è il giochino 36 diviso 2 fa 18 Ezio l'Inter ne ha 19 ti calcoli sempre a piacere che fate chiedi ai giocatori anche non più io chiedo all'Albodoro e gli occhi lo vedo l'Albodoro sono a 30 chiedi a Ibrahimovic se quello scudetto l'ha detto ma c'è l'Albodoro gli occhi lo leggo però è ovvio che tu te li aggiungi loro pure cioè c'è un contro un contro due down ci dovevano dare anche quello dell'altro prima che provoca ci dovevano dare anche lo scudetto dell'anno prima che hanno revocato ci dovevano dare allora devi togliere a loro un sacco di roba vi ricordo solo che a voi dovevano dare a tutte le partite che ha giocato Recomo ma infatti io Ezio io rispetto l'Albodoro te ne do 36 mica meno vedo che provoca un calcio di rigore che ti chiedi ma come fa un giocatore a fare un fallo del genere in un punto dove non c'era bisogno di una roba ma dove andava l'autaro al limite dell'area e poi Luis Alberto che in occasione fa un assist per il terzo con l'Inter quindi due giocatori da quattro assolutamente poi da Luis Alberto ci si aspettava proprio la stoccata salto di qualità ma noi ci ricordiamo con la Lazio ci ricordiamo purtroppo per noi è Luis Alberto ci ricordiamo no il retropassaggio di Gresco ah ma mi torni ah ok no voglio dire che voglio dire che nel calcio nel calcio si prende e si dà a proposito di questo Simone la sfortuna prima è dalla nostra parte poi è dalla parte dell'avversario chiudiamo il capitolo Supercoppa dicendo che l'Inter è per la dodicesima volta in finale ne ha vinte sette ne ha perse quattro delle quattro che ha perso proprio due sono con la Lazio quindi oggi ha sfatato un tabù perché nel 2004 a 3 e nel 2009 l'anno del triplete Mourinho perse in agosto con Ballardini in Cina 1 a 2 e per la prima volta l'Inter finalmente batte la Lazio in Supercoppa Italia e comunque insomma questo Inzaghi qualche recorduccio lo ha no? deve vincerla per fare il record certo ma certo lui ne ha vinte ne ha vinte tante però che sia lo specialista di Supercoppa è vero perché le ha vinte con la Lazio ne ha vinte quattro da allenatore due alla Lazio e due all'Inter e due anche da giocatore è proprio una sua specialità il re di Coppa ragazzi il re di Supercoppa c'era prima di tuffarmi nel discorso che secondo me Moratti sta prendendo un po' distanze da questo scudetto perché a forza di pensarlo già cucito addosso quasi diventa scontato che l'Inter lo vinca e forse non giusto Moratti? Marotti Marotti ma ho detto Moratti ma è una vocale troppe mattine alla Saras Alfredo anni e anni a seguirlo e inseguirlo poi lui è sempre disponibile devo dire la verità prima però il giochino chi giocherebbe titolare nella tua Inter Borrelli di quella Juve della Juve titolare Bremer giocherebbe titolare? ma sì dai possiamo mettere una mista Inter-Juve potremmo mettere Cesli in porta quindi li prendi il portiere Pavard Bremer e Bastoni sugli esterni sugli esterni beh ti tieni di Marco e ti prendi ma Cambiasso devo dire che sta crescendo veramente tantissimo lì l'Inter diciamo vediamo Dunfris se riprende al 100% Darmia mi piace però anche lì per esempio potrei mettere Cambiasso che sta facendo benissimo se il resto al campo che hanno dimostrato poi e poi il centrocampo come faccio a togliere Varela Cialanoglu quello è il reparto dove c'è più differenziale proprio tra le due squadre e ecco a me Michele mi piace tantissimo però se devo fare la mista posso mettere Rabiot lì quindi metto Rabiot e davanti Lautaro il capocannoniere potrei fare una coppia Lautaro Vlaovic per esempio anche se Turam sta facendo bene quindi tu non prenderesti Chiesa dalla Juventus per farlo giocato lì no però se ti devo fare una coppia esplosiva ti potrei mettere Lautaro Vlaovic c'è solo un giocatore che io non poi Turam è fortissimo mi tengo Turam però devo fare la cosa la squadra mista quindi secondo me Chiesa è il più forte giocatore italiano sì però chiesa c'è un cambio però che quello di Bremer secondo me se a Cerbia in forma io tengo a Cerbia al posto di Bremer sì però porca miseria ragazzi a Cerbi di quest'anno e mezzo è strepitore ragazzi a Cerbi di quest'anno e mezzo è più forte ma dai ma voi mettere più forte allora scusate ragazzi non è perché uno si chiama Cerbi fatemi esprimere il concetto non è che a Cerbi è vicino la parola Cerbo e quindi Vlaovic perché Vlaovic no scusa Bremer perché è brasiliano Bremer perché è forte ragazzi a Cerbi è più forte di Bremer bisogna dirlo è più forte di Bremer se è in forma adesso quando giocava nel Toro guarda l'espressione di Giovanna che ti dice tra tre anni sono una grande estimatrice di Acerbi se ti devono dire il rendimento della stagione scorsa 22-23 sicuramente Acerbi ha una media voto più alta di chiunque ha fatto una stagione ma per una questione di età ma scusa Giovanna Bremer è stato sottovalutato erroneamente anche dal Milan a suo tempo attenzione è un grandissimo giocatore ma ha 35 anni ecco io per esempio Bremer è un grandissimo giocatore con 10 anni di meno stiamo parlando di un giocatore non c'è confronto stiamo parlando di un giocatore che ha annullato il giocatore del Allan 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 stiamo parlando del giocatore che ha neutralizzato Allan perché l'avete contestato perché l'avete contestato quando è arrivato perché non si pensava non lo volevate perché non è la prima stagione che fallisce Acerbi poveretto ha avuto anche dei problemi seri ha due anni che gioca benissimo nonostante due anni ha 35 anni e gli altri 32 nonostante tanti miei colleghi non erano contenti che arrivasse Acerbi io ero contento perché per me era un grande pedina da mettere lì ma dietro Ezzio è il centrale più forte del campionato che togliendo la tragicomica partita di Reggio Emilia con il Sassuolo ha subito 8 gol anche l'Inter ha subito meno gol della Juve 10 gol tu 8 sei perché tolgo una allora tolgo pure io una che vuol dire tu hai subito 12 e l'Inter 10 ma perché quella partita l'Inter ha fatto 17 gol in più perché ce li siamo fatti l'Inter ha fatto 17 gol in più ma te la ricordi quella partita certo me la ricordo perché l'Inter gol Bologna non ce li è fatti gol però visto che non ne prendo come esempio una togliendone una ma ne prendo come esempio 19 togliendone una su 20 capito ma fai prima di dire quanti gol ha preso quindi ti sto dicendo se qui stiamo dicendo che uno preferisce Acerbi a Bremer o dire che qui dentro c'è una polverina che gira male il rendimento di Acerbi è strepitoso a differenza di tante altre persone tu avevi detto Pulisic meglio di Turam e che ci sta tu ribadisci quindi Pulisic meglio di Turam è più da polverina Pulisic di Turam che Acerbi Bremer a me piace la gente che si giocare a calcio lui si giocare a calcio è un giocatore quindi non è la stessa equazione cioè il confronto Pulisic non sta Acerbi Bremer i due ci stanno per età per tutto là c'è uno che ha 10 anni Pulisic che turamma non ci sta proprio è un giocatore a fine carriera Acerbi che ha avuto delle stagioni normalissime adesso sta facendo bene nell'Inter in una squadra forte che ha un grande ma lui ha un valore aggiunto è libero Certo di Acerbi che ha un centrocampo fantastico Gianni ha pantinato De Vrai Acerbi anche nella Lazio giocava benissimo non lo toglie mai Acerbi era un giocatore ma ci credo chi fa giocare De Vrai perché è meglio De Vrai di Acerbi perché De Vrai è scarso adesso è meglio De Vrai è meglio Acerbi ma De Vrai ha avuto quel calo l'anno dello scelto del Milan ha avuto un anno di down appunto ma l'anno prima ha preso il premio miglior difensato del campionato ho capito ha preso il premio anche quando è venuto via dalla Lazio con quel gol su Icardi allora conta l'episodio adesso De Vrai è scarso no no anzi c'era un pregiudizio quando è arrivato Acerbi perché sembrava lo stesso ma anche lo stesso Darmiano anche lo stesso Darmiano non si pensava poter si rendere così quando ci prendevano in giro perché dicevano di averci sfilato quando ci prendevano in giro perché dicevano di averci sfilato all'ultimo secondo Bremer adesso col seno di poi dico ma benvenga Acerbi tutta la vita ma Acerbi ha finito la carriera ragazzi ma benvenga Acerbi non ho toccato l'ultimo paragone perché allora l'Inter di Inzaghi abbiamo detto anche per caratteristiche mi scuso con quelli che ci stanno ascoltando da casa ma tu hai detto Pulisi Tuturam hai detto una roba che non si può sentire ma tu non lo puoi sentire tu hai una roba così ma io sai che ho sentito da te Leo Cristiano Ronaldo quella ancora peggio del pezzo quando erano giovani alla stessa età a 19 anni senti lo ripete a 19 anni tu non l'hai visto giocare arriva l'ambulanza Leo eri ancora all'asilo quando c'era il signore Cristiano Ronaldo portoghese che giocava ancora lì non era meglio di Le Audi adesso te lo assicuro te lo assicuro solo che questo non ha la testa di Cristiano Ronaldo quello che dice quello che dice Simone il rendimento di Acerbi oggi Bremer a nove anni in meno tu devi comprare quello vale 50 e quello vale 2 perché è a 35 anni ma come rendimento Acerbi l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso quanti anni ci sono di differenza 88 97 sono nove anni nove anni va bene allora io posso comprendere la dichiarazione di Barbato solo per il fatto che temo che quel copricapo gli abbia fatto salire riscaldare un po' la temperatura perché Acerbi sta giocando male 10 gol subiti secondo te come mai ma non puoi dirmi che prenderesti Acerbi al posto di Bremer a tutta la vita il centrocampo dell'Inter non è di interditori sono tutti tre quartisti hanno sempre la parla loro però hanno sempre la parla loro quello è un altro discorso è un altro discorso lo giochino di chi vorremmo è come no è qui che ti aspettavo al VAR e poi non lo volevo concludere con gli allenatori che secondo me potrebbe essere nel test stavo dicendo Inzaghi sta facendo giocare l'Inter in un modo fantastico miglior differenza però attenzione c'è dalla parte di Allegri un aspetto a favore di Allegri che se si arriva a maggio punto a punto come secondo me è probabile è più abituato uno ha vinto sei scudetti e l'altro ha la spada di Damocle se non lo vinci se non lo vinci non ti consacri e quindi quello psicologicamente Allegri scusami domanda è da tre anni però per la legge dei grandi numeri questo è il terzo ecco in tre anni se non vince lo scudetto con questa squadra qui è un problema abbiamo detto che la Juve se lo sta giocando punto a punto però quello che ha detto è un problema avere una scuola che è un problema è giusto che sia un problema oppure no per la legge dei grandi numeri io invece penso che questo non accada perché già l'Inter ha perso negli ultimi anni scudetti per questo tipo di condizionamento psicologico dove la squadra secondo me mi assumo le responsabilità di quello che dico si è sovraccaricata di questa tensione perché sentiva sul gruppone il peso di dover vincere per forza questa volta per la legge dei grandi numeri non possiamo perdere un altro scudetto per quel motivo lì volevo solo dire questo dovevi dirglielo non potreste io userai il condizionale ragazzi testa a testa puoi vincere puoi perdere voglio capire dopo vengo proprio a stuzzicarvi su questo atto dovuto l'Inter è doveroso vinca lo scudetto e qua ci sono alcuni interisti secondo me Marotta in primis e Inzaghi e Braccetto che rifiutano questa teoria perché sembra anche togliere merito a un'eventuale vittoria finale ma ne parliamo di bagarre fino a mezzanotte Ezzo tu volevi fare il giochino al contrario quindi dire chi vorresti intanto zitti zitti 4-5 te li hanno presi quindi questa Juve ha preso il portiere ha preso Bremer cambiasso Rabiot e Vlaovic no scusami Rabiot cambiasso e Vlaovic cambiasso allora Cesdi Bremer cambiasso Rabiot e Vlaovic no ragazzi Cesdi Bremer cambiasso Rabiot e Vlaovic 5 e non prendere mezza squadra e non prendere Chiesa Lautaro Vlaovic la doppia d'attare ok ok 5-5 e non prendere Chiesa secondo me è un delitto è un delitto io all'Inter se voglio prendere uno tra Vlaovic e Chiesa mi prendo Vlaovic io se devo scegliere io però a valori metà squadra se non di più potrebbe giocare tranquillamente nell'Inter io non ho messo Danilo perché Pavara è fortissimo ma Danilo è fortissimo pure lui per dire che ci sta a proposito di età Danilo magari paga l'età tu dei loro ma io dei loro sarebbe troppo facile visto che si gioca per fare gol parlare del capocannodiere e dire Lautaro però io onestamente adesso oggi come oggi per come sta tornando a rendere Vlaovic su Chiesa io confido tantissimo perché torno a dire il più forte giocatore italiano che ci sia abbiamo questo giovane questo diciottenne Ildiz che sta venendo fuori alla grande io l'attacco al momento me lo tengo così come saluto saluto caramente in panchina ma possiamo prendere anche gli allenatori ad esempio tu non prenderesti Allegri invece di Silvone Zaghi io ringrazio meno male che Marotta non è riuscito a fare quello che voleva stai mica parlando di un pirla scusa se lo dico Allegri però io mi diverto a vedere l'Inter secondo me Allegri anche con un altro tipo di squadra fa un altro tipo ha un altro filosofia preferisco il gioco di Zaghi tutta la vita poi si può anche perdere ma almeno vedi giocare a pallone io Giovanna due giocatori nel centrocampo della Juventus Cialanoglu e Barella quei due giocatori lì li metterai nel centro quegli altri li lasci tutti l'altro perché con il Rabiot che vedo con il McKennie che vedo che sta facendo il difensore però lo potresti prendere ma tu hai Gatti in difesa e non ti prendi un difensore dell'Inter no beh ma Gatti gli ha fatto fare 6 fuggi gli ha fatto fare 6 fuggi in classifica Morina allora Morina allora facciamo la domanda conseguenziale se 9 undicesimi della Juve sono più forti di quelli dell'Inter perché non vince a mani basse il campionato e chi l'ha detto che non lo vinca a mani basse perché sono non lo dichiari che è un obiettivo metà classifica metà campionato potete anche crollare li tengo pure la Juve io da 10-12 partite a questa parte sto vedendo un grande rabbio un grande McKennie sempre 17 gol in meno dell'Inter sono i due in più subiti non è che l'Inter non è più forte non conta vincere una partita 5-0 meglio vincere 5 partite 1-0 infatti l'Inter ne ha vinta uno in più l'Inter ne ha vinta uno in più invece guarda un po' io dico la formazione vostra se posso dire anch'io la mia solo due giocatori possibili giocatori rabbio e chiesa basta gli altri ne li lasci pubblico e Vlaovic compreso allora come sono cambiate le cose quando il fiato della Juventus non era così sul collo dell'Inter Marotta dichiarava tranquillamente l'obiettivo no? quasi ad aggiungere pressione giusta corretta a una squadra e a un allenatore che erano chiamati a vincere quando il fiato del collo della Juventus è diventato pericolosamente insomma ha ribadito l'obiettivo pungente lo ha ribadito lo ha aspetta prima fatemi vedere che cosa ha detto Allegri perché quella dei guardie ladri credo che rimarrà insomma rimarrà per un po' nelle menti di tutti noi cacciatori dello scudetto perché aveva parlato di lepri che scappano insomma di gioco delle parti Marotta sì Marotta Marotta se c'è qualcuno davanti dietro c'è chi insegue un po' come il gioco guardie ladri dove i ladri scappano e le guardie rincorrono allora Marotta ha deciso di dire che non gli ha dato fastidio anche se voci vicine all'Inter parlavano di un ambiente infastidito da queste dichiarazioni Inzaghi in conferenza stampa ha detto questo e qui vi voglio perché non solo non ha risposto possiamo dire anche ha snobbato no? possiamo dire che un po' ha snobbato Allegri le sue dichiarazioni ma ha aperto e continua a farlo il cerchio dello scudetto cioè non siamo addirittura non solo c'è la Juve e c'è la Juve ma c'è anche il Milan ascoltiamo ho sentito e letto qualcosina insomma penso che sia una normale dialettica del mondo del mondo del calcio insomma che tanti anni che sono in questo mondo e quindi lo conosco io quello che posso dire è che senz'altro in campionato c'è un bellissimo duello tra l'Inter e la Juventus ma non dimenticherei il Milan che è lì a pochi punti è una squadra è un'ottima rosa che in questo momento sta bene quindi penso che la lotta al di là di Inter e Juventus ci sia da contare assolutamente anche il Milan ecco ragazzi non sentite anche voi che c'è l'esigenza da parte soprattutto di Inzaghi di estendere questa lotta Scudetto di non farlo così facile questo campionato ma perché non vogliono dare la titolarità di contendente interamente alla Juventus che invece di fatto ce l'ha perché io se devo dare un discorso percentuale se voglio esagero dando il 5% di possibilità al Milan il 45% ce l'ha la Juve e l'Inter solo perché avanti gli do quel piccolo vantaggio e perché gioca la partita chiave del scontro diretto in casa perché non dimentichiamo che sto al suo peso però voglio dire anche se Gianni a San Siro la Juve ha sempre fatto delle prestazioni ma io conto quello sai Ezio quello che io conto per rendere più bello il campionato ecco ma io perché il milanista conta al milanista piace lo spettacolo va bene per cui l'Inter che va a cavalcanto come l'Apro nello scorso anno Gianni vedi che non hai fatto è bello vincere come direbbe scusa voglio rubare il termine ad Allegri di Cortomuso sarebbe lì perché il milan ha vinto lo scudetto di Cortomuso Gianni non hai fatto bene i conti perché se la Juve si presenterà a San Siro in testa se vince non è bello il campionato perché la Juve se ne va quindi se tu vuoi che il campionato sia combattuto non devi volere la vittoria della Juve a San Siro perché voi non rinunciate poi state attaccate poi c'è l'Atletico Madrid arriva la Champions è lì qualche punticino lo lasciate non essendo la squadra più forte l'abbiamo detto ma ha appena detto che hai i nove undicesimi meglio dell'Inter questo lo dico io ragazzi rendetevi conto che il calcio devi mettere d'accordo noi abbiamo qualche anno e anche tu cominci a diventare grigio diciamo qualche esperienza di calcio ce l'abbiamo anche bianco ma mica sempre vince la squadra più forte vedi due anni fa il Milan con merito vince la squadra di Ranieri in Inghilterra era la squadra più forte con dei colossi lo scudetto che ha vinto il Milan era la squadra più forte ai danni dell'Inter non era la squadra più forte ma è riuscita a vincere lo scudetto è per quello che dico la Juventus non è la squadra più forte sempre per la legge dei grandi numeri io penso che quest'anno dai la legge dei grandi numeri però Gianni io sono d'accordo con te l'Inter è più forte non penso che l'Inter faccia lo stesso errore faccia lo stesso errore ma quali sono i grandi numeri avete vinto uno scudetto tre anni fa grandi numeri perché allora Barbato fa parte di quelli che fanno arrabbiare gli inzaghi nel senso che lui dice l'abbiamo perso il primo anno l'abbiamo perso il secondo adesso il terzo ma più che altro Giovanni non ci sono mai più che altro quindi dà demerito all'Inter anche nello scudetto del Milan io ho un modo di pensare anche rispetto alle occasioni mancate dell'Inter ho un modo di pensare a ritroso ancora di più ah vai 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 io sto dicendo che sulla sulla bilancia io sono d'accordo sulla bilancia l'Inter è un po' più forte nel senso che ha la rosa più profonda ma perché è più profonda perché fa le coppe quindi quel vantaggio della qualità lo perdice sull'altro qualcosa la sciline con le coppe è inevitabile ti sto dicendo che io la penso esattamente come te quindi siamo lì testa a testa è tutto da capire chi lo vince è proprio ammettissimo loro non possono permettere di fare parte così come anche lo scontro diretto Juve-Inter l'abbiamo visto passa in vantaggio la Juve pareggia l'Inter che approfitta diciamo di quella disposizione vale nel secondo tempo la Juve si ritira dietro l'Inter la rispetta e finisce uno a uno lo stesso quindi non è che c'è questo andava bene per tutti però scusate se mi stai dicendo che io voglio capire se siete d'accordo su questo concetto se è uno scudetto è un campionato apertissimo perché questo vantaggio dell'Inter nella profondità della rosa è annullato dal fatto che questa rosa poi debba essere impegnata in quella competizione che ti toglie allora c'è un vantaggio di qualità talmente irrisorio che veramente non ce l'ha già in tasca lo scudetto che veramente se dovesse l'Inter vincere lo sarebbe qualcosa di importante è di grande vuoi sapere quale potrebbe essere la fortuna dell'Inter uscire dalla Champions allora si che mette una pietra pesante sul campionato ma se lo vince l'Inter ha fatto il suo dovere o è comunque qualcosa di qualcosa di oltre il fatto della rosa quante volte abbiamo detto quest'anno dall'inizio del campionato dopo tre quattro cinque partite parlavamo del gioco spumeggiando anche stasera perché è vero anche stasera perché è vero invece tutti a criticare il gioco sparaglino però adesso ha trovato un'identità precisa alla Juve 1-0 non andrà sempre bene non vincerete sempre a questo la terza giornata secondo me l'Inter deve fare una scelta importante che è una scelta molto difficile c'era una volta la fila tremendo la scelta di Sofì invece la chiamo la scelta di Simone Inzaghi l'Inter può vincere questa Champions League secondo me no non la può vincere però la Champions League anche andare avanti secondo me le può costare tantissimo in termini di campionato hai ragione Gianni ma non si può scegliere secondo me io privilegerei il campionato e poi la Champions quello che viene viene come ha giocato l'ultima del girone abbiamo capito chiaramente perché arrivare secondo in quel girone era un suicidio e ha deciso l'Inter di non onorare quella partita l'Inter può andare avanti fino in fondo con le due mani secondo me non dobbiamo non dobbiamo non considerare il fatto che stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso è arrivata a seconda e quest'anno ha diciamo chi è che è arrivato a seconda? in Europa dici tu in Europa e quest'anno ha l'esperienza di una finale quindi secondo me semmai ha più probabilità di arrivare in fondo rispetto all'anno scorso ma sono tanti ma l'esperienza dell'anno scorso ma tu pagherai un prezzo pesantissimo se vai avanti in Champions se vai avanti in Champions paghi un prezzo sul campionato ragazzi ogni due partite che fai contro un turno che passi hai due partite dove qualche punticino lo lasci in campionato e hai questi che sono lì riposati la settimana pronto per giocare la domenica e non hanno niente da perdere perché se non lo vincono voi se avete preso 7 punti di vantaggio sull'Inter e non è giusto però questo Giovanna perché Allegri ha scelto la Juve quando poteva andare all'Inter nell'estate 2021 e non è che è andato alla Juve giusto per partecipare ho capito però ha la certezza che prende lo stipendio scusate ma anche per vincere ma se io devo vincere la Champions League e poi perdo lo scudetto ma a me va bene va bene lo stesso hai vinto la Champions League ragazzi ma non arrivi in fondo perdi lo scudetto ma vinci la Champions League ma tu sei competitivo scusa tu puoi battere questo Real Madrid no l'Atletico Madrid ieri l'Atletico Madrid ha vinto 4 a 2 in Coppa del Re sì ma non puoi puntare sul vincere la Champions il campionato è una gestione più alla tua portata no ma Giovanna con l'Atletico Madrid ditemi voi se non è vero con l'Atletico Madrid che fai come con la Real Sociedad perché primo o secondo no con l'Atletico Madrid a parte che l'Inter giocherà il 16 con la Salernitana il 20 con l'Atletico Madrid e il 25 a Lecce Inter-Atletico Madrid da San Siro il 20 gioca la squadra migliore e tu non puoi non giocare per vincere è impossibile non giocare per vincere poi la puoi pure perdere perché l'Atletico è forte però giochi per vincere e la Juventus sono d'accordo con Gianni se fai il tifo per l'Inter si fa un favore perché avere poi il quarto ad aprile in una settimana è pericolosissimo mi ricordo il Milan di Sacchi nel 90 vinse la Champions la Coppa Campioni era all'epoca col Benfica in finale e perse con discussioni e polemiche arbitrali lo scudetto a Verona quindi se lotti per tutte e due rischi secondo me adesso voglio rischi di trovarsi con un pugno di mosche in mano questa pressione dello scudetto ma è stato lo stesso Marotta metterlo addosso perché nelle prime dichiarazioni ha parlato chiaramente facciamo un esempio storico se mi permetti fammi fare un esempio storico il grande Milan quello straordinario ha vinto uno scudetto con Sacchi ragazzi perché il campionato gli serviva come allenamento non gliene fregava niente no no che non gliene fregava Gianni il capello ha vinto un campionato Sacchi ma per demeriti perché dopo il capello ne ha 24 in 5 anni ma però quando vedevi il Milan in Europa era un'altra squadra sì ma non credo che sia questo al quale stia puntando ma quelle erano le squadre che vinsero lo scudetto contro il Milan di Sacchi sia l'Inter di Trapattoni che il Napoli di Maradona e la Samp di Viali erano squadroni cioè non era facile sì certo allora io adesso vi come a scuola il prossimo argomento così vi preparate durante la pubblicità è questo che mi ha dato lo spunto no stavo parlando e Borrelletto non è giusto perché se l'Inter vince lo scudetto ripeto è un qualcosa un po' che tutti si aspettano che è nell'area alla portata della Juve dell'Inter se lo dovesse vincere cioè il fatto che la Juve abbia secondo me ha anche il vantaggio psicologico bravo Allegri a crearlo ma bravi un po' tutti noi ad avvallarlo cioè la Juve qualunque cosa faccia è un più ok se anche dovesse arrivare seconda è un più perché ha combattuto fino all'ultimo con una squadra che ha perso il combattimento ma lo scorso anno con quei disastri che aveva in ballo la Juve sempre comunque un più ha fatto il terzo ragazzi e l'obiettivo era entrare nei primi quattro e Borrelli non ci sta questo più sempre comunque pubblicità ma anche i giocatori della Juve non ci stanno